Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi vi vorrei vedere una cosa Scusate, c'è la porta aperta Intanto Guardate Ho un nuovo spinner Da camera si vede un po' già l'altro Ma vi assicuro che è bellissimo Verde e chiaro chiaro Facciamo che chiudo la porta Ecco Adesso Vi mostrerò Un attimo Una cosa Intanto la salto Questa cosa, sennò c'è troppo 100 Ecco ragazzi siamo arrivati Intanto guardate qui di nuovo Figo eh Questi sono usciti pure in edicola Però ci sono pure quelle con le lame Che ti tagliano Che c'è? Ah niente Intanto Intanto devo cercare la Laura Che se la trovo Intanto salto Mentre cerco la Laura Ragazzi mi dispiace Ma purtroppo non l'ho potuto trovare Che cavolo Mezz'ora per cercarla E infatti Sono stancato Comunque più o meno Questa è a casa mia E oggi vi porterò Un video Che vi faccio tipo un vlog Intanto inizio ad andare Vado A delle panchine Per il mio video su YouTube E vi ricordo di Scusate ma sto cercando Di mettere mi piace Iscrivervi E con dei video su Facebook Adesso salto Che vado un ottimo Ragazzi siamo su tele panchine Vi faccio vedere uno spinne perché è troppo figo Io lo faccio fare con il mento Perché mi piace più E vi ricordo che se volete comprarlo O stesso al mio Sono a San Giovanni Questi così Poi ci sono quelli A A due A due A tre A tre cusciretti Questi ne vedete tre Ma dentro A queste ne vedete tre No Ma Un altro che Metto bene la telecamera Ma dentro Questo Lo vedete no C'è un altro cusciretto E quindi no Se ci sono Due conoscinetti all'esterno E uno all'interno So tre Intanto sta passando Un motocarro Che lo so di chi è Era il video il corso No Non ha fatto molto Però Ha fatto sette iscritti E 78 visualizzazioni Circa Una cosa di queste Per questo video Voglio Più di 78 visualizzazioni Non mi chiedo di più E intanto qua Passano di macchina in macchina E incamminiamoci dai Macchina No io cammino Non vedete Poi vi faccio vedere Le mie carte D'addio No D'addio Da pagliaccio Se le vedete Le vedete Non me ne vedete Ok Intanto Andiamo No Almeno se ci chiamo Che posso fare Vi faccio Una domanda Avete tipo Visto quando Quelle giornate Di sole Bellissime Non c'è nessuno Con cui giocare Tu ti dici Avete capito Ve lo ridico E poi infatti Quando trovate Nessuno Con cui fare Una passeggiata Giocare a calcio E noi Vi ricordo Di lasciarmi Un commento Su quale squadra Preferite Io Sinceramente Preferisco Il Milan Milan al cuore E vi ricordo Che i video Che farò Farò pure Un vlog Al mare Non soltanto Cose del genere Ah e vi ricordo Che Il 16 No Il 25 Maggio Sarò A un ritiro Tipo Un ritiro Uno Eppure Il 26 E il 27 Quindi Non potrò Caricare video Al massimo A gennaio Quando potrò Faccio il vlog Al mare Non so Se quali sarà Il mio Il mio video Successivo E E niente E camminiamo C'è adesso Che mi scocciate Nella panchina In un prossimo video Se non lo faccio Il vlog Al mare Vi porterò pure Un'altra persona Oltre a me Se riesco A trovare Laura E Lo faccio Ve la Porto Adesso Sul video Un attimo Che salto Che se no Ho sette Due Troppo Tempo Un'altra Mezz'ora Quindi Mi sono Capito Ragazzi Sono riuscito A trovare Laura Ma guardate La mia Auto Non so Se si vede Dalla distanza Adesso Di sì Comunque E intanto Che possiamo Fare Oh Facciamo un scherzo A una persona Dai 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 Facciamo Piano 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 Non vede Non vede Non vede Non vede Dove sono Che se no Dai Dai Non vede Non vede Non vede Spiamo Vai Qual è il bottone Non lo so Ragazzi È uscito Non so se mi ha finito Manca il giro Usi una macchina Accontriamoci Devo Ci vede Ragazzi Tutta la tua Spinner Che c'è? No Non ho soltato Io suonare Vedi che Però prima Visto una In giacca nera Passare da te Ok Ciao Ok Per questo video È tutto Ci vediamo Nel prossimo video Lasciate like Iscrivete E condividete Su facebook E ci vediamo Nel prossimo video Bella ragazzi